bricchino perché non trovo il suo video di minecraft che siamo tornati nella sky factory 4 è molto carino sto pack ragazzi molto molto carino allora due cose a volo e poi cominciamo io mi sono messo qua ho trovato il modo per fare la osidiana ve la faccio vedere subito è un metodo un po così però butti un secchiano d'acqua dentro il calderone e osidiana perché faccio quattro pezzi e osidiana altri quattro pezzi questi e osidiana ragazzi tre pezzi di osidiana facile 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 io ne ho già fatti un pochetto dove avere tipo 15 16 16 18 perfetto così poi nel caso ci sarà andare nel land andiamo nel land poi mi diceva di fare un bacon sapling e un donut sapling allora questi sono già più complicati perché se voi vedete il donut sapling mi chiede il donut allora l'apple ce l'ho la sugar possibilmente mi chiede il donut sono questi qua craftati ma sto qua è il dog il dog come si fa con la wheat con il wheat per fare wheat mi servono i seed come faccio fare i seed mi serve comprare un market per fare market è log e playings faccia mi serve la red bull per fare red bull ragazzi mi serve il rosso io ho fatto l'entrata che questo ho preso un pezzettino di bon meal l'ho buttato sull'erba così mi ha dato un poppy guardate fai così tac tac mi dà un altro poppy un altro di questo ragazzi con il poppy lo butto qua mi danno rosso e anche giallo con il rosso con il rosso con giallo vado cercare non il bone ma il 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 cotton il cotton dovrebbe darmi la lana fantastico nel frattempo liberiamo un pochetto questo e magari ci facciamo anche un po' un po' di lana ce la facciamo noi perfetto almeno andiamo nella crafting table qua ragazzi sta piovendo diluvia cioè io voglio capire perché diluvia vabbè lasciamo perdere non sapling ma stringhe le stringhe si fanno non ricordo come fanno le stringhe l'ho perso le stringhe le stringhe sono le stringhe ragazzi stringhe no non è le stringhe il bull direttamente mi dava no aspettate cottonwood resin aha eccolo qua cottonwood amber cottonwood amber e se cotto questo mi dà la lana ok come si faceva quindi mettiamolo qua nel tempo io ho fatto tutte le cose adesso vi faccio vedere un pezzo alla volta dov'è che ho messo la mia lana scusatemi lana? ma non l'avevo fatto scusatemi eh uh uh ta ta non l'avevo fatto che ero cieco ragazzi qua vabbè insultatemi pure nei commenti non è problema cottonwood non devo cuocerlo devo crasharlo manufactory cable no ragazzi allora io mi provavo male la lana la prendevo semplicemente ogni tanto dalle stringhe va bene va bene comunque un pezzo di lana albervevevo che parte eccolo qua un pezzettino di lana si fa così si mette un rosso diventa rosso si prendono questi qua per adesso il resto lo buttiamo qua dentro e se tutto adesso muoio allora come deve andare io cercavo i seed i seed si fanno dentro il market 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 very good market posso farlo oh yeah market come te vedi è una quest mi ricordo dove quando me la chiedevano ma vabbè e la mettiamo la mettiamo la mettiamo la mettiamo mettiamo la mettiamo qua sopra dai l'ester oddio santo l'ester vabbè ragazzi il seed mi serve un gold ingot io ragazzi ho fatto tutti 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 i sub in remanente se lo vi faccio vedere per ognuno ho fatto 8 amber penso forse 9 forse 10 non mi ricordo e ragazzi se se mi vale fortuna se funziona tutto metti questo metti questo oh yeah che goduria mamma mia mi serve mi serve una io scusatemi perché ogni volta devo andare avanti e mi faccio una cosina così una cosina così una cosina così questo qua me lo metto qua facciamoci una bella oe che non si fa così ma si fa così oe perfetto ah c'ho anche caro seed quando è che ho vado caro seed comunque uno due seed caro seed ho un po' di buon meal di certo ce l'ho non so bene dove buone meal buone meal buone meal buone meal nel frattempo via questo via questo questo qua via bitroot va bene via questo via questo li stringo ne siamo qua andiamo a provare come non mai il seed dammene un po' ok trovo tutto il buon meal non mi fa assolutamente niente ci prendiamo zan 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 un goccio d'acqua qua e se tutto va come andare donut donut si fa con questo con questo con questo tac me dai 8 8 8 si fa così no forse prima devo cuocerli a memoria e me ne servono me ne servono ah me ne da 4 perfetto quindi dovrei cuocerli prima si cuociamoli very good ah ragazzi dicevamo oh ah ragazzi ho fatto quello di diamante quello di gold quello di redstone quello di lead quello di silver poi il tin avevo già fatto il tin l'iron ragazzi l'ho smattato un po' qua l'ho appena fatto è abbastanza facile allora ho dovuto prendere un green slime come faccio a farlo mi serviva il cactus ma il cactus si fa nelle vines e le vines si fanno con il latte ma il latte si fa con il lapis e ragazzi un giro di pepe clamoroso infine il cactus me lo sono scippato nelle vines tanto le vines avete visto basta mettere il jungle sapling qua sopra qui l'ho messo qua mi sono preso le vines il latte l'ho buttato qua dentro un giro di pepe clamoroso e ci ho fatto anche quello a me ne abbiamo chiesto le cose qua allora dove ci vamo io volevo fare donut perfetto comunque ragazzi petrate prima di tutto questo questo se i miei calcoli non sono errati mi da un diamond hammer me ne da 8 8 diamond hammer questi qua li rimetti qua e se io butto questo qua dentro non è vero non è vero mi serve un golden diamond no aspettate 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 magari posso buttare qua no allora peppa pensavo fosse più semplice diamond come faccio diamond scusatemi eh vabbè a parte con la filo di person che non posso farlo a parte con questo qua non posso farlo diamond no no non dimmi che l'ho sprecato tutti non l'ho visto ti prego dimmi che l'hai ancora sei orca vacca vabbè ragazzi spieghiamo che è il tuo fine puntata mi faccio qualcosa dov'è che sono eccoli qua i cookie 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 mettilo qui resto morendo quattro di questi prendiamoci un po' di zuccherino che dovrebbe farsi così lo zuccherino e donut sapling con un apple sapling andiamo a prendere un apple sapling apple sapling che dovrebbe essere tipo no non è qua è birch apple sapling dimmi che ne è uno meglio uno che zero io continuo mangiare queste cose di qua perché le voglio finire però ragazzi adesso sono le mele vorrei mangiarmi le mele congratti bam 4 donut donut ne ho uno libero si mettiamo qua ragazzi qua non so cosa verrà fuori cosa verrà fuori ah ho fatto le trap e ceste vabbè ragazzi avrò bisogno di più cose quindi ho fatto le trap e ceste allora ti prego dimmi che ne hai fatti altri due dieci dieci qui mi chiamano ragazzi io vi ringrazio per la visualizzazione vi ricordo di commentare se non vi piace con i miei video iscrivetevi a la cappellina ragazzi abbiamo un diamante come al solito oddio butalo giù addio grazie per il pesce ciao